Buongiorno a tutti raga, io sono Stikets e oggi raga siamo qua con un video speciale perché di solito il sabato non faccio uscire video Però visto che è uscito il film del campionato nuovo sono qua a portarvelo Detto questo vi chiedo di lasciare un bel like supporto e soprattutto se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale Vi ricordo anche l'hashtag salutami se volete essere salutati nel prossimo video e alla fine di ogni video come sempre saluterò qualcuno Oggi raga andiamo a spacchettare dello Sport Week, la rivista legata alla gazzetta dello sport Le figure del film del campionato Voi direte ma se il campionato è fermo come fanno uscire? Ebbene sì raga, sono uscite come sempre, anche se è un po' in ritardo rispetto a quello che c'era scritto sull'album calciatori Però sono uscite Raga guardate quante ne ho prese Una, due, tre, quattro e cinque più questa Voi vi chiedete ma perché ne ho prese cinque raga? Perché secondo me queste figurine qua rimarranno nella storia Innanzitutto perché non parlano solo di calcio Guarda adesso andiamo a aprire, andiamo a sbustarle e ve le faccio vedere Soprattutto raga non parlano di calcio solo Vabbè a parte Daniel Maldini, tre generazioni di Serie A che è giusto e doveroso poterlo mettere dopo Cosa ha fatto il nonno e cosa ha fatto il padre Paolo e Cesare Poi hanno messo la figura di Francesco Caputo Messaggio di speranza Con andrà tutto bene, restate a casa Quindi questo qua raga l'avevo pure pronosticato prima in qualche video scorso E poi hanno messo lo scudetto del cuore Hashtag lo scudetto del cuore, campioni d'Italia E si parla dei medici raga Anche questo l'avevo pronosticato in qualche vecchio video E ci sta raga, è giusto così dare anche un premio ai medici Che sono i veri eroi di questo momento tragico forse In questo periodo in cui siamo hanno voluto prendere tante Proprio perché secondo me il valore può solo che cresce Quindi raga più ne prendete e meglio è secondo me Raga queste sono quelle che hanno già uscito Nella prima uscita ne erano uscite tre Poi quattro, quattro e quattro E ora non avendo più spazio andiamo a metterlo qua dentro Ecco qua Anche questo è messo E va insieme alle altre Che adesso andrò a inserire nel raccoglitore Molto molto belle come sempre Vei colori Quindi raga se riuscite prendetene più che potete di queste qua Perché secondo me rimarranno realmente nella storia E vi do un consiglio Non apritele, tenetele così sigillate Che tanto se una le aprite e le altre se volete tenerle tenetele così Direttamente dentro qua E' un consiglio che io vi do da collezionista Quindi raga detto questo Gli direi di passare subito ai saluti In questo video voglio salutare Ardi Che me l'ha chiesto tramite Instagram Quindi seguitelo se volete ErdanYouTubeP LorenzoTiramani GXLedoArdo DeleT SnifeGamer62 Spero di averlo detto giusto ResidentEvilSalvatoreResident E Giovanni Deramo Raga Questo video è stato veramente flash Quindi raga vi lascio al prossimo video